Qual è il tuo nome? Giuliano Crasso. Il tuo? Marco, imperatore. Il nome di mio padre. Devono aver saputo della fuga di Massimo quando hanno scoperto i corpi dei loro uomini. Pensavano a un assalto di barbari. È brava gente, fedele all'imperatore. Incoccare le frecce! Pendere! Allora forse eri tu che sapevi e non me l'hai mai detto. Io non lo sapevo. Non lo sapevi. Ma un generale ha sempre il controllo. Sempre il comando. Non è così? Sì, Cesare. Allora dà l'ordine. Dillo. Allora dà l'ordine. Allora dà l'ordine. Allora dà l'ordine. Allora d'un auto. Non è suivito l'ordine. Qu cole farè. Da l'ordine. Allora dà l'ordine. 边.